Seconda giornata al torneo estivo del derby sports, la folli sportiva vince, ma non ci interessa, settimana scorsa ha perso male, ma non ci interessa, si interessa che a pochi minuti dall'inizio c'è una punizione per la folli sportiva, sulla palla va Ciccio Carion, tira una schifezza, che però corsa sotto la barriera e vede il gol, incredibile, esulta come un maiale, tra l'altro c'è una cosa inguardabile, non segnava dal 28 credo, perché giocando in porta non è facile segnare. Green Storm, poli sportiva, 2 a 4 doppietta di Ciccio Carion, vuol dire che la vittoria è tua? Sì, segnatevelo adesso, che non succederà mai più, fino al 2080 forse che Ciccio farà una doppietta, forse neanche un gol, però volevo sottolineare la grande prova della squadra, perché comunque i ragazzi oggi si sono sbattuti e poi il gol migliore comunque è stato del numero 4, non so neanche come si chiama, perché io gioco con delle persone che a volte non conosco. Paolo Sartori, lo diciamo per tutti. Poi ho tirato il volo, ho fatto un gol della madonna, no comunque è bella parata, poi sono 3 a 2, parata contro il tempo di Giulio, fantastica, che ha salvato il risultato, poi dopo ho chiuso, volevo fare uno scavetto, ho detto una cosa a rasoterra, che fra un portiere è stato beffato lo stesso, e quindi è stato divertente anche così. Comunque si vede, si vede che hanno chiamato, ciao hanno chiamato il mister, volevano un mister, il mister è arrivato e ha portato subito la prima vittoria, la prima vittoria nel torneo estivo. Con quel portiere che mi fa vedere, vabbè, le cose che non si possono dire, no comunque, molto contento, contanto che la fine sono andato qua che erano in 4, quindi sì. Non dire niente contro di nuovo. No, no, ho detto che mi sono detto bene, dopo ho fatto vedere la registrazione. È tutto vero, è tutto vero. Quindi niente, complimenti e ci vediamo la prossima settimana sperando in un'altra prestazione così. Buonasera. Un saluto alla Polisportiva e Ciccio. Ciao.